Ciao a tutti da Davide, Matteo e Filippo di Audiocostruzioni, questa è la video vendita di dicembre 2022. Subito prodotti nuovi, vedete la sala nuova, bellissima, è appena arrivato un VPI, lo Scout, bellissimo nuovo a 3.900, questo è un giradiscone di super qualità. Gold Note, il PH10 a 1.590, poi abbiamo anche i PH5, parlo sempre di prodotti nuovi, questi stanno spopolando, i PH5 ne abbiamo venduti 3 che è un mese che li trattiamo. Macintosh CD350 disponibile subito, Exdemo ha un prezzone, come anche l'MA8950, l'integratore da 200 Watt, ultima versione con l'equalizzatore. Sotto abbiamo una coppia di Mickelson e Austin da 100 Watt, coppie di finali, gli M100, valvolati TAD, quindi veramente belle macchine, sono dell'amico Stefano, in conto vendita a 1.500 euro. Se volete venire a ascoltare, queste non le abbiamo in vendita, però le potete venire a ascoltare e ve le possiamo procurare di qualsiasi colore, ok, 7.400 euro, 7.300 euro scontate, a fronte di un listino di 13.000, costano un'esagerazione, ma suonano veramente bene, vedete il prezzo. Come queste, Tannoy Canterbury, sono naturalmente l'ultima serie, la GR, anche queste hanno un prezzo di listino veramente molto alto, attorno ai 33.000 euro, ma vedete che arriveremo al dunque perché la scontistica è veramente alta. Andiamo in quest'angolino perché sono delle cose molto molto belle, secondo il mio gusto. Allora, Mingda MC845, questo è un integrato da 20 Watt in classe A, tenuto benissimo, ok, valvolato con le Golden Dragon, quindi supervalvole, 1450 euro, purtroppo non abbiamo l'imballo, quindi non lo possiamo spedire, peserà una quarantina di chili ed è una macchina strepitosa. A fianco troviamo un C47 della Macintosh, preamplificatore con ingresso digitale, questa è una macchina che è ancora in garanzia, ok, infatti c'era un LED che non andava, l'abbiamo mandato a Triodo, tutto in garanzia, tutto a posto, macchina perfetta, 3.400 euro. Un pochino sopra troviamo Copeland CTA405 a 1950, è l'ultima versione quella col telecomando in alluminio ed è una macchina stupenda perché è 50 Watt e ha un ingresso fono super, tutto valvolare, macchina veramente molto molto a posto e ricercata. Sempre in conto vendita dell'amico Corrado, un Audi Affly, il Flight CD2, che è un bel lettore CD, veramente bello, a 1.400 euro, ma andiamo un pochino più sopra, troviamo l'esoteric. LX, il 7, scusate, metto gli occhiali per dirvi il K07X, ecco, a 3.950, questo è un lettore CD, S-A-CD, che fa anche da DAC, ok, questo suona da paura, 3.950 euro. Più a fianco troviamo un suono e un lettore della serie S, il 9000 ES, sempre in conto vendita a 4.90 e ancora più sopra un Audio Analog Puccini, questo ha fatto la storia di Audio Analog perché è un 45 Watt con un bel ingresso fono, un suono veramente molto molto morbido, ok, e come dicevo Audio Analog è diventato famosa con quel amplificatorino lì, 400 euro. Ancora più sopra troviamo un equalizzatore, un TLA, che è un equalizzatore a valvole, introvabile a 730 euro. Ancora più sopra troviamo Subwoofer Energy, ma soprattutto un trasformatore 220-110 di Bartolucci, quindi un trasformatore di fascia altissima a 300 euro per chi ha apparecchiature, diciamo, a 110 volt. Un sinto ampli della Onkyo a 220, molto molto interessante, quello lì con il suo telecomando, e un riduttore di rumore Burwen Reserche americano a 140 euro. Ma andiamo sempre lassù che c'è della roba interessante, Arkham a 38 è un 100 Watt, ok, molto caldo, stile inglese, puro stile inglese caldo, mai affaticante, 690 euro. Un pochino più sotto, un Marantz ND8600, che è un ex demo praticamente, è il lettore CD con lo streamer chiavetto USB, questo qua a 1300, ma ne è rientrato anche uno proprio usato invece, in questo caso di un po' di tempo, mi pare un paio d'anni, che metteremo fuori attorno ai 950 euro. E Sound con l'ottica nuova, questo è l5 Signature, questo è un bel lettore CD che suona bene, a 6,50. Invece, per chi gli piace la roba italiana, abbiamo un Synthesis Roma 14 DC, che è il CD valvolare della Synthesis, prodotto italiano, stupendo, ok, 1900 euro, naturalmente, garanzie italiane e quant'altro. Continuano a vendersi molto, molto bene gli streamer, questo è un top, diciamo, di gamma. È il Rose, il modello che io confondo sempre... 150B. 150B, questo c'è un display strepitoso, volendo c'è i V-meter, insomma, è una cosa favolosa, 3960 euro. Di fianco, in conto vendita, abbiamo un MA5002, che è l'integratino della Macintosh, molto, molto bello, con gli ingressi digitali e anche USB, a 3600 euro. Prefinale dell'onchio, l'M5030 e il P3030, molto bellini, con i suoi V-meter, a 980 euro. E ancora più sotto, Dalquis DQ10, con i suoi supporti, li avevo a 1.750, le ho abbassate a 1.450 euro. Andiamo in questo reparto qua. Un pre-audio-video della Marans, molto, molto bello, a 390, questo per chi vuole smanettare con l'audio-video, ha tantissime funzioni, e anche il telecomando con il display LCD, che funziona, però, purtroppo, il telecomando ha, diciamo, è leggermente rovinato il display, ma si vede bene e funziona come che fosse perfetto, quasi 390 euro. Primer, l'i21, questo è un bel integrato nordico, molto lineare, perfetto, ok, mi pare 85 watt, e se non vado errato, 650 euro. Ancora più di fianco, stiamo vendendo molto bene questi bloc qua, c'è il CD a 310 euro e l'Ampli a 310 euro, 600 euro tutte e due, ci sono disponibili neri o silver, il CD ha anche la chiavettina USB, e per essere così economico suona davvero molto, molto bene. Sempre prodotto italiano, sempre sintesis, parliamo di Soprano, questo è un 12 watt in classe A, ok, con l'L84, cos'ha di bello? Intanto i 12 watt sono veramente potenti e suona proprio bene, ha l'ingresso ottico, coassiale, USB e Fono, e telecomando, cosa che dei valvolari è praticamente impossibile da trovare. L'abbiamo messo a 1100 euro perché è praticamente un ex demo. Sempre come prodotti nuovi, continua bene la vendita di questi due prodotti. Denon DR800, che è un sinto ampli che fa tutto, vedete qua che sfilarate di cose che può fare, Tida, Amazon, Amazon Music, Spotify, chi più ne ha più ne metta, Bluetooth, Dub Plus e via discorrendo, 750 euro, oppure il suo fratellino, che è della Marantz, praticamente è diventata la stessa marca perché i proprietari sono gli stessi, l'NR1002, che fa praticamente le stesse cose, costa 7,90, sempre USB, regolazione dei toni e via discorrendo. In casa Advanced Acoustic, casa francese, che continuiamo a vendere, a differenza di Denon e forse anche di Marantz, suona molto più caldo, ok? Di bello c'hai il V-meter, questo è l'A7, che è il Sinto Ampli Streamer, il più grosso, 110 watt a 1390. L'A5, che è fatto uguale, questo ha l'uscita anche HDMI, mentre l'A5 non ha l'HDMI, però è molto molto bello, a 90 watt e costa 1200 euro. Qua di fianco, continuiamo a vendere molto bene il CD5 dell'Advance Acoustic, è un bel lettore CD con la chiavetta USB a 4,90, oppure i due fratellini, diciamo, l'XI75, che è un integrato 75 watt, palo di prodotto nuovo, con l'ingresso USB sia da computer che da chiavetta, regolazione toni, ingresso Fono, a 740 euro. Mentre l'XI50, che è un pochino più piccolino, ha 50 watt, ha il bluetooth incorporato e anche la chiavetta USB, solo quella da, proprio da chiavetta, no? E costa 490 euro, dico bene anche lui. Altro prodotto molto interessante, Playstream A1, è 50 watt, chiavetta USB, streamer, HDMI, quindi lo possiamo collegare alla TV, a 740 euro. Anche questo è un prodotto che suona veramente molto, ma molto bene. I Denon abbiamo, sia il nuovo, il PMA17NE, che è una bomba, perché suona veramente bene, display 70 watt, alta corrente, ingresso Fono, ingresso Fono, sia MC che MM, regolazione alti e bassi, a 1800 euro, qui si ha veramente una bomba. Il modello primo l'abbiamo usato, a 1200 euro, anche questo è una macchina di sicura qualità. I Rotel, parliamo dei Rotel come preamplificatori, ne abbiamo due, l'RC1590MK2, che è un pre che fa tutto, ok? Ingresso Bluetooth, USB, Fono, regolazione toni, veramente bello, sono gli unici pre che con una cifra umana, è umana, si ha veramente dei prodotti incredibili. Naturalmente c'è il telecomando, mi pare che siamo attorno a 1700, 1800, per il 1592, 1300, 1200, 1300, questo qua. Ne abbiamo uno, praticamente ex demo, di 1572, che è il fratello minore, però tutte le funzioni sono simili, sempre Bluetooth, sempre in Tata Phone, video scorrendo, a 980 euro. Poi, continuiamo a vendere sempre bene, che finalmente sono arrivati, i Denon, il DCD600, con il suo amplificatore PMA600, ingresso ottico digitale e anche Bluetooth, molto molto comodo, vedete, 1,400 euro, l'integrato 480 euro. Poi, 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 a Tessa, anche questi della Roxanne, da quando hanno fatto questi modelli qua, ne vendiamo praticamente uno alla settimana, tra a Tessa normale, che costa 1290 euro e ha anche lui l'ingresso digitale, ok? Quindi fa anche da DAC, mentre il modello superiore, che fa anche da streamer, con l'app particolare, che la conoscete, o qual è la... Blue OS Molto comoda, 1900 euro. Parliamo di 130 watt, un toroidale grosso così, voglio farvi notare che toroidale che ha, questo qua, quindi spinge veramente forte e suona all'inglese, quindi molto molto bene. Sono macchine che vediamo molto bene. La sua meccanica, che usa il convertitore all'interno della Tessa, anche lei si chiama Tessa, costa 650 euro. Molto bene, abbiamo sempre... Ecco, questo è molto bello. Allora, era un... Era perché praticamente hanno fatto un upgrade della Madonna, un RPM 1 della Project, no? A cui è stato messo il piatto in acrilico come accessorio, che costa 280 euro solo il piatto, quindi un piatto veramente da giradischi importante. È stata messa la Ortofon 2M Red, che costa 110 euro. La base antisonante, sempre della Project, anche questa, ha un costo non inferiore ai 300 euro, o circa lì. Vediamo il tutto, con anche il suo clamp, ok? A 590 euro. Questo è una bella macchina. Ancora più sotto, topping. MQA, cioè fa anche i file MQA, è il D70S, è un DAC di ultimissima generazione, molto quotato, a 590 euro. Andiamo ancora più sotto. Warfidel sono le Linton. Questa è la finitura più rossiccia, diciamo, Mogano, ok? 850 euro, queste sono usate, e naturalmente le vendiamo molto bene, anche nuove. Sono un usato, ma sembrano nuovo, ce l'imballo e tutto. Nuove mi pare 1.100. Andiamo ancora più di fianco. Sono delle Tannoi, le F6 o qualcosa del genere, sì, F6, a 890. Anche queste sono seminuove, perché le abbiamo vendute a un ragazzo che gli piace cambiare ogni sei mesi qua, e non hanno più di sei mesi, forse anche meno, e questi sono diffusori che suonano molto bene. McIntosh MA 5300, stupendo, è l'integrato da 100W della McIntosh, questo ha anche la regolazione dei toni, è l'ultimo DAC disponibile, no? È ancora in listino oltre gli 8.000 euro, mi pare 7.500-8.000, a 4.600 euro, ed è praticamente come nuovo. Kenwood, l'M2A, il 200W, bellissimo con i suoi V-meter che vanno su, a 790, e ancora più di fianco, questo devo ancora fargli il prezzo, ma saremo attorno al migliaio di euro, Synthesis Flame, no? Con le valvole L34, recentissime sono queste valvole qua, col suo telecomando, guardate se è bello, tutto nero, anche questo qua, made in Italy, è un 30W, ma che suona proprio bene, attorno ai 1.000 euro. Andiamo ancora più sopra, NAD C300, è un integratino che non si sbaglia mai, a 190 euro, per chi gli piace smanettare, c'è Sony 1000 ESD, che è il pre-audio-video con dentro l'equalizzatore parametrico, ingressofono, è un audio-video, ma bellissimo, con suo telecomando, a 350. Ancora più sopra, un bel Crick, che è un integratino che suona bene in inglese, a 490 euro. Due Musical Fidelity, uno 250, uno qualcosa di più, 360, ma comunque li tratto perché ce li ho lì da un po', sono tutti e due integrati che suonano molto, ma molto bene. Pre-finale Technics, l'A800S col suo pre, a 400 euro, trattabili, ma soprattutto questi due, questi sono veramente stupendi. Iron, AP 140, pre-valvolare con l'ingressofono, le valvole si illuminano super carino, col suo finale AP 890, valvole originali, usato pochissimo, tenuto benissimo, questo è un pre-finale, è vero che di produzione cinese, però suona, che è una meraviglia, è esteticamente una bomba, a 1.300 euro. Cambridge Audio, l'A500, questo è un integratino, col suo telecomando, sempre inglese, che suona sempre bene, che siamo attorno ai 180 euro. Ancora più sopra, quello là è stupendo, è un Pioneer Vintage, ma se io ve lo tiro giù, ve lo faccio vedere, praticamente col fianco, in legno, bellissimo, suona che è una meraviglia, mi pare che siamo attorno ai 350 euro. Continuiamo nella parte giradischi, magari ve ne tiro fuori qualcuno da farveli vedere, fare uno speciale giradischi per questo video. Partiamo con giradischi che non costano troppo, si parte con l'ATLP3 dell'Audio Technica, un giradischi completamente automatico, testina, audio tecnica, start e stop, completamente automatici. È molto comodo, viene in 290 euro ed è un ottimo modo per partire nel mondo del giradischi. Possiamo andargli a contrapporre un giradischi completamente manuale, come il Project T1, ha il braccio in alluminio, il piatto in vetro, testina ortofon base, comunque molto bella, cappa grigia fumè, finitura, in questo caso nero lucido, con la base in MDF, completamente manuale, quindi dobbiamo andare a mettere il disco, finisce, lo tiriamo su, lo portiamo indietro, ed è quello forse che vendiamo di più, perché ha un rapporto qualità-prezzo strepitoso. I materiali di costruzione sono davvero ottimi e per iniziare questo è un bellissimo giradischi. Possiamo andarvi a contrapporre il Rega, il Planar 1, che è un giradischi molto simile per tanti versi, vediamo qui, abbiamo il piatto in MDF, base in trucciolare, braccio Rega, che è forse un pochetto più rinomato, con la testina, la Rega Carbon, e siamo a 355 euro. Questo è un usato che teniamo qui in esposizione, ma li abbiamo anche sempre nuovi. Salendo un po' di gamma, si passa, si arriva al Torrens, il TD202, questo è un giradischi molto bello, scusate se vi faccio un po' girare la testa, ma è l'unico modo che ho per farveli vedere. Torrens, adesso stiamo anche preparando un video da fare un pochino più completo, questo è molto bello, ha la base, così, con questa finitura, color legno, gloss, quindi lucida, il piatto in alluminio, il braccio in alluminio, con la testina che si rimuove, questo è sempre molto comodo, testina, l'Audio Tecnica Latte 95, che è quella verde, una testina da un'ottantina di euro. È un bel giradischi, si inizia a fare uno step un pochino successivo. Per salire, dopo andiamo avanti anche con qualche giradischi usato, possiamo avere Roxana Tessa, questo è il giradischi della famosa serie Tessa. Ne stiamo vendendo tantissimi gli amplificatori, Davide ve li ha fatti vedere, e qui troviamo un braccio unipivot a Tessa, Roxana ha anche tutta una storia per quanto riguarda i giradischi, fa anche dei bracci e delle cose molto belle, piatto in vetro, molto molto bello. Questo è un Next Demo, con un prezzo molto importante, 970 euro, nel senso che è un grande sconto. Poi possiamo proseguire con i classici Technics, l'SL15, è la versione home, senza il pitch control, con l'autolift alla fine, ed ha una testina 2M Red. Bellissimo giradischi. Contrapposto c'è il suo fratello gemello, versione più DJ, che è il 1200 MK7. È un ottimo giradischi, abbiamo già fatto anche un video dove ne parliamo. Trazione diretta, abbiamo il classico braccio ad essa in alluminio, con lo shell che si sposta, si toglie, si rimette. È un giradischi, secondo me, che è sempre molto bello. Ah, faccio una menzione speciale per questo Lenko, da 250 euro, l'LBT188, che è anche questo, per iniziare con la testina e la due tecnica bianca, è davvero un bel giradischi. Ma andiamo a vedere invece qualche chicca, qualcosa di più bellino. Project l'X2, questo è un usato, ne abbiamo ben due, tutte e due come nuovi, 1, 2, 850 euro, qui abbiamo il braccio in carbonio, quello con tutte le regolazioni del VTA, dell'Azimuth, quello che volete, testina 2M Silver, che è il corrispettivo della 2M Blue, piatto in acrilico di alto spessore, saremo a due centimetri e mezzo, se non tre, è un bellissimo giradischi, siamo sui 1175 nuovo, questa è un'offerta usata, 850 euro, e come ho detto, ne abbiamo ben due. Poi possiamo trovare un'audiotecnica, la T120, questo viene 300 euro, è un usato, il 120 è il modello, prima di quello che si trova adesso, che dovrebbe essere l'X, oltre ad essere nero lucido, era forse costruito un pochino più rigorosamente, soprattutto come peso, 300 euro, qua non ci si sbaglia, per uno che vuole un carro armato stile Technics, davvero qua non vi sbagliate, 300 euro usato, solamente ritiro a mano in negozio. Poi abbiamo un bel girodeck, girodeck ragazzi, girodeck questo qua è una versione particolarissima, perché ha il doppio braccio, il motore lo troviamo qui, si sposta da lì a qui, boccole dorate, deck quindi versione con la cappa e il piatto e la base in acrilico, bracci, qui troviamo il braccio della rega, quello alleggerito, e uno smè 3009, e qui siamo a 5400 euro. Per chi invece vuole un girodeck senza spendere 5400 euro, abbiamo un MK1, è la prima versione, ha anche un valore storico, 3200 euro, è tenuto davvero davvero bene, vedete la differenza, è che la base veniva fornita nera invece che trasparente, questo nel primo modello. Braccio MyWire, una testina Shure, l'M44G, qui si inizia ad avere un girodischi che è anche un piacere per gli occhi. Poi andiamo avanti con qualche altro prodotto, qui abbiamo un 2 experience della project, a cui abbiamo fatto mettere la cappa nuova, braccio in carbonio, completamente in acrilico. Guardate qua che bel girodischi, e qui siamo a 890 euro usato, penso che questa qua sia una bella offerta. Qui sotto abbiamo girodischi della Magna, trazione diretta Magna, sapete, famosa per diffusori e per elettroniche, ma questo giradischi a 795 euro, è per me un capolavoro. Il braccio così curvo, con la testina, la T95, bellissimo giradischi, bellissimo giradischi, nero lucido, questo velo straconsiglio, pesa un quintale. Poi andiamo qui, avete visto che abbiamo implementato i prodotti pre-fono della Gold Note, Gold Note ha tutta una storia, una filosofia per quanto riguarda i giradischi, questo è il Gold Note Valore, giradischi usato, guardate qui che piattone in acrilico, adesso ho fatto venire via la cinghia, un braccio bellissimo, insomma è una macchina made in Italy, fantastica, 680 euro usata ovviamente, è una bella offerta, e qui vi sfido in questa cifra a trovare un giradischi che suoni meglio. Poi abbiamo qui, che adesso ve lo metto lì sopra, le Magra Transpulse 1500, questo, questo ragazzi, è una figata, è l'Empire Troubador, adesso ve lo metto in condizione di far vedere, è al suo meglio, bellissimo, guardate che bel giradischi qua, siamo penso negli anni 80, è un capolavoro americano, Empire Troubador, con il suo braccio dorato, ha un contropiatto in alluminio, che pesa una tonnellata, e questo è un giradischi strepitoso, e ha un prezzo molto buono, 850 euro. E poi ci dilunghiamo con tutto ciò che riguarda Torrens, partiamo da un bellissimo TD 125, qui andiamo su Torrens, quindi andiamo su giradischi flottanti, giradischi a cinghia, con qualche anno sulle spalle, TD 125, 990 euro, le condizioni di questo sono strepitose, venite a prenderlo, perché in queste condizioni non si trova, questo è l'MK1. Fratello Maggiore TD 126, MK2, elettronico, questo ha molta più elettronica al suo interno, questa è la versione più bella, perché era fatta per montargli lo SME, quindi basetta SME, SME 3009 serie 3, quindi cannetta in titanio, questo è un giradischi fantastico. Qui, facciamo un attimo a parentesi, Micro Seik, il BL 51, giradischi a cinghia della Micro Seik, l'ho lucidato io, è venuto un capolavoro, ha qualche righetta qui, ma quasi non si vede, sotto la luce qualcosa si vede, se no non lo vedete neanche, siamo a 1250 euro, e poi qui sopra abbiamo tutta una serie di Torrens, il 165, il 147, il 320, un altro 126, un 150, insomma, qui dopo ce ne sono tanti, belli, venite a prenderli, perché li abbiamo tutti ribassati come prezzo, perché un 165, 270 euro, il prezzo è ottimo, un 147 è un po' come un 160 super, a 450, è bellissimo, e dopo questi qua magari ve li guardate sul sito. Facciamo una breve parentesi sugli streamer, ormai è diventato, come diceva Davide, l'oggetto del desiderio di Natale 2022, noi trattiamo due marchi in particolare, Cocktail Audio, e Rose, il Rose, l'avete già visto prima, il 150B, il modello top di gamma, questo è il modello 201, che è il modello più piccolino, che fa la Rose, parliamo di un prezzo di 1710 euro scontato, il listino intorno ai 2000 euro, è un modello che ha un piccolo amplificatore al suo interno, ma si vende soprattutto per le sue capacità come streamer, come vedete ci sono tantissime funzionalità al suo interno, Cobus e Tidal nativo, quindi legge l'MQA nativo, RoseTube, ovvero YouTube, al suo interno, senza pubblicità, e soprattutto ha un catalogo, un database musicale, che possiamo inserire al suo interno, e possiamo comandare grazie a questo touchscreen frontale, molto molto interessante, Cocktail fa anche il modello N25, oltre al piccolino, l'X14, questo è l'N25, di cui ho parlato recentemente, con un video approfondito, e vi invito ad andare a vederlo, 1120 euro, parliamo di uno streamer, che non ha la possibilità di alloggiare hard disk, questa è la serie N, quindi la serie di puri streamer, ma si collega a Spotify, Tidal, Cobus, Amazon Music, Apple Music, insomma ha tutto il suo interno, un DAC all'interno di ottima qualità, l'X14 come dicevo prima, è il più piccolino, di solito se ne vendono tantissimi, e in questo periodo di vacanze natalizie, se ne stanno vendendo un'esagerazione, le funzionalità sono le medesime, però cambia naturalmente la qualità, che con l'N25, e abbiamo anche un prezzo più importante, abbiamo una qualità maggiore, e se uno vuole un top, abbiamo l'X45, parliamo di 2120 euro, in questo caso abbiamo anche lo slot, per ripare i nostri dischi, negli altri bisogna mettere un masterizzatore esterno, in questo caso possiamo ripare la nostra libreria musicale, all'interno di un hard disk opzionale, che si inserisce all'interno, e poi creiamo il nostro database musicale, prendendo tutti i nostri vecchi cd, immagazzinandoli al suo interno, e possiamo fruire digitalmente della nostra libreria, oltre che fruire di Spotify, Tidal, Cobood, e tutti quelli che vogliamo. Allora, partiamo dall'alto, troviamo un Luxman M02, che è un finale da 150 watt, che suona veramente bene, qualche leggero segnettino sul, diciamo, sulla pannella anteriore, però molto carino, ben suonante, 850 euro. Invece, ancora più sotto, questo è una bella macchina, Musical Fidelity A5, è il lettore cd, che era, diciamo, un buon lettore, mi pareva che costasse 2.600, unico proprietario, in ballo, sembra uscito di fabbrica, 950 euro. Per chi vuole tanta corrente, un finale della Yamaha, il 200 watt, si chiama B5, vedete, fatto a piramide, a 4,90, e ancora di fianco, una cosa che potrebbe andare anche bene in sintonia, della PS Audio, un preamplificatore Trio P200, a 550 euro, è un bel prelinea. Pioneer SA7500, è un integrato da una quarantina di watt, veramente quando Pioneer costruiva, a una certa maniera, guardate com'è finito bene, suono veramente vintage. Sistemino Macintosh MXA60, che è un sistemino con lettore cd, prea valvole, finale da 100 watt, radio, diffusorini, è un conto vendita, 3.700 euro. Una bella coppia di AR10P greco, restaurate completamente, ribordate, ma anche il cabinet è in condizioni favolose, a 1480 euro trattabili. E qui direi che abbiamo finito. Un trevie dell'RCF a 150 euro, sempre molto molto interessante. Un sistemino della Marans, il pre più i due finali, l'abbiamo abbassato a 1.100 euro, molto molto interessante. E lì di fianco troviamo Cambridge Audio, l'Evo 75, è uno streamer di rete, amplificatore da 75 watt, se non vado errato, fa praticamente tutto, c'è il display che come i cocktail audio si diciamo si può vedere la copertina e via discorrendo, 1.500 euro questo a pochi mesi di vita. Queste sono due macchine interessanti. Denon AVC1SR A1SR che era l'integrato audio video top di gamma della Denon, no? Un bestione da oltre 30 kg, a 490 euro. Questo suona bene, è un sinto ampli, suona bene anche a due canali. Chord finale da 200 watt, ok? Questo inglese non ha bisogno di presentazione, suona veramente bene, speaker A e speaker B a 1.200 euro. Andiamo più sopra, una coppia di equalizzatori, SG9 a 340 euro trattabili. Copland CTA 401 questo è il 35 watt della Copland con le valvole L34 tenuto molto molto bene a 1.250 euro. Ancora più sopra abbiamo vabbè, il Dynavox, la multipresa, parlo di prodotto nuovo, con il voltmetro davanti a 220 euro e ancora più sopra un Audio Lab 8200 cd molto molto interessante. Adesso non riesco a vedere il prezzo, ma lo metterò sul sito. andiamo a vedere una bella coppia di Transpulse 1.500 che sono i diffusoroni della Magnat che hanno avuto tanto tanto successo. Sono usati, ma tenuti veramente molto bene a 850 euro. Purtroppo, non avendo gli imballi, non riusciamo a spedirli. Una coppia di diffusori Genelec che devo ancora fare il prezzo, ma voi sapete, sono attivi, la Genelec non ha bisogno di presentazione, parliamo tutto di top, diciamo, il meglio che c'è. Quelli lì non si sbaglia mai. Martin Logan sono le 35, quelle da scaffale, le più grossine delle due, sono delle ex demo, costerebbero 1.290 già scontate, ma per queste ex demo 1.100. Ancora più sotto, mi pare di averle messe fuori attorno di 800 euro, vediamo se Filippo ci ha messo il prezzo, no, ma guardate, non mi sbaglio di tanto, queste monitor audio R6, ok, con gli imballi molto belle, costavano 1.600, sono scontate del 50%. Polk audio, questi qua sono diffusori a torre che hanno anche il sub attivo, quindi possiamo usarle sia come passive che come attive sul sub a 590 euro, poi Dali, queste qua costavano un'esagerazione, sono praticamente diffusori planari elettrostatici a 650 euro, costavano 6.000 e via discorrendo, bellissime queste, ah, bellissime queste, erano la serie top della BMW, sono le Matrix 3, con gli imballi, finitura noce, i suoi, diciamo, copertine parapolvere, a 590 euro, qua si ha dei grandi diffusori, ancora più di fianco, sempre una coppia di BMW molto più recenti, in conto vendita le 683 a 850 euro, e sempre le BMW, le DM620, le ho messe a 440, ma a 400 euro ve le riesco a dare. Poi andiamo qua sopra, questo è molto bello, è il NAD D7050, che è l'ampi digitale della NAD, ok, fa un po' tutto, anche questo qua, c'ha il DAC interno, non ricordo il prezzo, ma non è caro, ed è una bella macchina, come uscita di fabbrica. Sono Sfaber, Venere 1.5, nere, a 750, molto belle, Kef, XQ1, a 550 euro, anche queste qua, sono costruite benissimo, e suonano gran bene. Andiamo di fianco, le 3,5 della Rogers, dovranno bisogno di presentazione, finitura nera, sono i monitor della BBC, a 1150. Ancora più fiammi, in fianco, leggiamo, la serie piccolina, a 230 euro, parlo di prodotto nuovo, mentre ancora più di fianco, una coppia di PEV, che sono le 600, e non mi ricordo più il numero, 4,70. Quad Z1, a 600 euro, finitura mogono, qui ce le ho da un po', non capisco perché non vanno via, sono molto molto belle, oltre che la finitura stupenda, anche il suono è classico inglese, molto puro, comunque a 500 euro, ve le do. Italianissime, le Opera Audio, a 600 euro, anche queste qua, a 500 euro, ve le do perché sono già lì da un po'. Polk Audio, quelle lì bianche, sono le piccoline della Polk Audio, a 260 euro, sono ottime, mentre di fianco abbiamo l'ultima serie della Klipsch, parlo di prodotto nuovo, a 3,95. Pro AC, Studio 100, tenute bene, gran suono, 1,300 euro, centrale, Klipsch, anche questo qua, sembra uscito di fabbrica, 505, dovrebbe essere a 320 euro. Un'altra bella coppia di diffusori professional ATC attivi, tutti in alluminio, questi suonano che una meraviglia, con l'amplificatore, la doppia amplificazione dentro, a 1,600 euro, un prefono della Perrault, un top di gamma, con l'imballo in conto vendita a 9,80, ma soprattutto sotto, Bada HD26, questo è un lettore cd, col caricamento dall'alto, tutto valvolare, suona benissimo, a 950 euro, questa è veramente una bomba. Luxman, C02, M02, bellissimi, li ho messi a 2,350, a 2,000 euro, li do via. Macintosh, l'MC252, questo non ha bisogno di presentazione, il 250 watt, con i trasformatori di uscita, della Macintosh, detto anche Nasone, a 4,200 euro, ma andiamo qua. Allora, Advance Acoustic, pre finale, l'MAA406, il 200 watt, ok, con il suo pre, con anche le entrate digitali, a 1,300 euro. 1,450. 1,450, scusa. Allora, Arbet HLP3ES2, praticamente sono delle LS3, barra 5, però, con un cabinet, molto più rifinito, lo stesso altoparlante, il KEF B110, quindi, su stile monitor, a 1,350, in conto vendita, Corra Johnson, pre finale, sono in condizioni favolose, con i suoi manuali, 2,400, trattabili, a 2,000, ve li do, i streamer, ne ha già parlato, Teo, andiamo più sotto, lettore Macintosh, il 7,000, a 1,350 euro, legge anche i masterizzati, Macintosh, C45, preamplificatore della Macintosh, a 3,600 euro, C34, ancora più sotto, a 1,950, anche questo è trattabile, perché addirittura ne abbiamo due, ok? Pre finale della Linne, a 690 euro, ma voglio farvi una super offerta, la super offerta è, su queste qua, guardate, qua leggo, 5,500 euro, parliamo di prodotto nuovo, sono le monitor audio, le PL200, il top di gamma della monitor audio, Filippo ha scritto 5,500, io ve le riesco a dare anche a 5,000, la coppia, sono nuove, quindi garanzia due anni, nuove, niente da dire, su quei prodotti lì, è entrato, un Advance Acoustic, XA125, ex demo, ok? È senza imballo, però, è ancora nuovo, con addirittura la pellicola, quello lì, lo vendiamo a 1,100 euro, MA 6,900, stupendo, appena entrato, l'integrato da 200 watt, con l'equalizzatore, i trasformatori d'uscita, l'ingresso Fono, a 5,400, e Gabri Samp, l'integratino, il Vegas, New Vegas, con l'L34, l'ho messo a 1,700, nessuno me lo sta chiedendo, a 1,500 euro, ve lo do, e AU 11.000, questo è stupendo, a 1,600 euro, l'integrato della Sansui, poi questi sono prezzi su richiesta, riusciamo a fare dei gran lavori, l'E800 della Acuphase, parlo di prodotto nuovo, e di fianco troviamo l'E380, questi qua sono prezzi un po' riservati, voi ci mandate una mail, e noi vi facciamo sapere tutto, Macintosh MC, MA, scusate, 252, il 100 watt ibrido della Macintosh, con la regolazione dei toni, l'ingresso Fono, quello lì siamo attorno ai 4.400 euro, parlo di prodotto quasi nuovo, ok, per non dire ex demo, Project Classic, come nuovo, perché è un rientro di un usato bellissimo, 890 euro, testina Ortofon 2M Blue, guardate che braccio, che cardano, braccio in carbonio, questo qua è bellissimo, ed è un super super giradischi, Musical Fidelity M2, devo ancora fare il prezzo, ma ci sarà un bel prezzo, Boston a torre, due vie, ma molto molto carine, 250 euro, Denon il PMA 510 a 150 euro, qua non si sbaglia mai, insomma, abbiamo fatto vedere un po' tutto, come vi dicevo, siamo un prodotto, è un negozio, abbiamo tante cose nuove usate, e soprattutto diamo un servizio, cerchiamo di stare in prezzo, e dare un servizio al cliente, spero vi sia piaciuto questa video vendita, seguite le prossime, che ci saranno più avanti.